Ma chi dobbiamo guardare? Ciao mamma! Tu fai una domanda che neanche sai, la risposta... No, non le ho neanche io alcune. Piramide... 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 Qual è il nome della montagna nella periferia di Città del Capo in Sudafrica? Non mi ricordo il nome, dai è difficile questa. Comunque la montagna che si sta così, a forma di tavolo. Ci sei? Sì? Due. Qual è la lingua ufficiale parlata a capo verde? Portoghese. In quale città americana si trova il Golden Gate Bridge? San Francisco? Su quale città italiana si affaccia il Vesuvio? Napoli. Amica. Qual è il nome della montagna più alta del mondo? Everest? No? Sì. Qual è il nome della più grande piramide in Egitto? Piramide... Piramide... Non lo so, va bene. Quanti paesi ci sono nel Regno Unito? Quattro. Quanti fusi orari ci sono in Russia? A9, B10, C11. Undici. Undici. Che tipo di foglia c'è sulla bandiera canadese? Oddio. Aspetta, la so. Tipo quella dell'acero, no? Non è mica la foglia dell'acero. Acero? Giusto? Giusto? Ok. Che delicioso. In quale oceano si trova il triangolo delle Bermuda? Atlantico. Sì. Basta. Brava, amica. Andata. Io. Grava. No. Va bene. Va bene. Ciao. czneio. Grazie a tutti